buongiorno ragazze buongiorno come va come andiamo prima di iniziare il nuovo story di questo bracciale vorrei 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 farvi vedere in questi due due progetti anzi tre progetti che ho fatto con le delica allora il primo progetto che ho fatto con le delica in assoluto è questo qua eccolo qua aspettate no è così è un ciondolo che si chiama oasi ciondolo oasi l'ho fatto poi in altri e altre versioni questo è il primo il primissimo che ho fatto se mi sbaglio si questo prima di primissimo che ho fatto e questo è stato l'ultimo l'ultimo che ho fatto è veramente uscito una roba spettacolare ragazze guardate che bello cioè guardate che meraviglia dicendolo non vedo l'ora di poterli indossare e niente questo è il ciondolo oasi trovate come sempre e chi ci sono ancora oppure in tutorial gli schemi sul mio sito creazionichristi punto it poi il secondo progetto che mi è venuto e questo qua orecchini mirror eccoli qua sono spettacolari spettacolare devo devo finire di fare anche il secondo di questo colorazione qua guardate i capelli bellissimi questo devo fare il secondo perché me l'ha ordinato una signora e ancora sospettando poverina insomma sono semplicissimi da fare sono bellissimi come sempre trovati tutorial sono fatti con le flower beads non so se vedono tanto le flower beads su creazionichristi.it e siccome avevo comprato gli ho acquistato gli leaves allora mi sono detta devo fare qualcosa con le con le foglie no eccoli qua e ho fatto i come si chiama i raja grazia e sono bellissimi sono spettacolo a me piace tantissimo perché poi hanno questa questa foglia in mezzo che non sta lì e sono bellissimi ho fatto anche un'altra colorazione c'è il kit come sempre sul mio sito e anche il tutorial se avete il materiale occorrente eccoli qua questi quali avevo indossati oggi sono spettacolari bellissimi sono contenta del mio progetto ora passiamo al tutorial vi ho presentato solo quello che ho fatto con le delica perché ultimamente mi sono arrivata le delica non avevo voglia di inventarmi di venti vabbè ho presentato tutti i miei orecchini ora passiamo al bracciale turchino daniela mi ha suggerito il nome ciao daniela e niente vado a mostrare i materiali che vi serviranno per realizzare il bracciale turchino allora come avrete per di bohemia 3 4 millimetri in powder pastel turquoise le tre misure di metallic light bronze quindi 0 8 0 poi abbiamo questo meraviglioso colore che è marini metallic ice veramente stupendidimo aro e vexolo tupendo a o qualche chita ancora non so se un ultimo o due ultime due o sapete che io acquisto e poi faccio kit di tutte delle per le varie e poi abbiamo come mi sono indicata di mettere l'etichetta queste sono le miuchi 11 non mi dico il colore è light blue una roba simile poi abbiamo le matte turquoise dark green bellissimo e niente mi serve ago che io adesso ho preso qua questo è un pezzo che ho appena finito di smontare e poi vi servire il filo da 0 12 sì 0 12 comunque sia un filo io vi farò un pezzettino perché non ho il tempo di finire tutto quanto però a parte che l'ho già finito già è pronto però vi farò un pezzettino come questo qua vedete per far vedere i tuoi passaggi bellissimo niente iniziamo ops ho dato un attimino che magari facendo così ecco facendo così sistemando bene bene qua allora andiamo a prendere una vex solo e sì non ci riesco allora dicevo una vex solo una 8 0 e una vex solo dal lato bombato di sopra mi raccomando e poi andiamo a prendere una 11 una arrow ecco qua ecco qua una 11 una arrow e 2 super duo una perla da 4 mm e 2 super duo ok tiro l'ago fino alla fine del filo poi qua metto una 11 e vado ad entrare nella vex solo nel primo forte del soldo dove sono partita ecco qua ecco qui il primo passaggio diciamo che è fatto ok semmate un pochettino ecco qua ok il primo passaggio è fatto allora entriamo ci portiamo ad entrare in tutte le perline fino ad uscire dalla pera da 4 mm qui andiamo a mettere a fare il contrario andiamo a prendere due super 2 ok una arrow una 11 una bec solo una 8 una bec solo e una 11 potuto la fine del filo e rientro nella aro qua vado a mettere due super 2 e rientro nella perla oppa la secondo passaggio effettuato ora andiamo a entrare passante le perline fino ad uscire dalla faccio vedere no non uscire dalla da dove esco ma si fino ad uscire dal foro basso della vexolo qua vado a mettere 3 15 dove sono i 15 qua 3 15 entro nello foro alto la vexolo ok qua mettiamo 3 11 3 11 3 11 vexolo foro alto foro alto per solo parte attenzione a questo passaggio foro alto per solo ok avvicino un po di più magari così riuscite a vedere tu non mi cadete stai fermo lì 3 quindi sull'ago entro nel secondo fuori della vexolo 1 80 1 vexolo dal foro a basso 1 80 1 vexolo dal foro a basso ok 3 15 entriamo nella vexolo nel foro nel foro in foro alto eccomi qua 3 11 entriamo nel foro altra per altra vexolo ecco qua e qui metto altre 3 15 e dentro nel foro basso della vexolo ecco qua e qui metto altre 3 15 e dentro nel foro basso della vexolo ok ora cosa faccio passo in tutte le rocaille tutte le perline fino a portarmi ad uscire dalla da questa per la locale che si trova in mezzo vedete dalla seconda locale delle 3 che abbiamo messo prima eccomi qua e qua metto una locale di diverso tipo 11 e un'altra 11 per ritornare indietro eccomi qua poi passiamo le 3 rocaille 15 passiamo anche la vexolo la 8 e usciamo direttamente dalla vexolo dal foro basso alla vexolo sapete e qui inizio a fare la stessa cosa che ho fatto qua ok metto una 11 una arrow 2 su per 2 una per la 4 e 2 su per 2 e rientro nella arrow e rientro nella arrow vado nella vexolo poi ripasso e ritorniamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua se vi ricordate vi faccio vedere aspettate ovviamente ho messo due su per 2 un arrow contrario una 11 una vexolo una 80 una vexolo e un'altra 11 e vado a inserire nella nel secondo fuori della arrow eccomi qua qua invece vado a inserire due vexolo due super 2 e continuo così per questo giro fino ad avere uno due tre quattro cinque in totale cinque vedete cinque modulini di questo qua con le super 2 uno due tre quattro cinque a me non mi sta cinque mi sono cinque giusti giusti vedete ups vedete giusti giusti mi sono cinque poi passiamo a a a far vedere come decorarlo questo è solo scheletro e passiamo a farvi vedere come ho fatto io allora quando avete se arrivate a fine giro comunque sia qua non dovete entrare così io sono entrata perché adesso perché quando si è arrivata a fine giro dovete mettere due due undici una otto zero e altre due undici ok e dovete entrare nella seconda per solo poi qua farete il capetto per la per la per il per il moschettone scuola meno una parola ok allora ora in inizio a la decorazione allora dicevo prendo sull'ago una per altre millimetri e una 11.0 e vado a infilarmi la prima nella prima super duo che trovo vedete poi vado a prendere un'altra 8.0 e vado nella seconda nella terza direttamente direttamente poi prendo un'altra 8.0 e vado la quarta su per 2 poi vado a prendere una una unici e una per perla e vado a prendere la prima locale che trovo qua davanti vedete il profilo ora vado a inserirmi qua vado a mettere una 11 una otto una 11 entro nel faccio il giro vedete se volete fare così altrimenti potete tranquillamente entrare anche nel 3 locali a posto io ho voluto parlo un po' bombato poi usciamo la locale qua vedete e andiamo inseriamo una perla una locale 11 e andiamo avanti così qua metto metto 8 8.0 qua entro nella seconda direttamente qua entro la quarta vado a prendere anche qua una 8.0 e vado a inserirmi qua della vexolo ok capito quindi questo qua è quello che dovete fare per la decora cioè allora ora usciamo dalla rocaille 11 che ho messo dopo la perla vedete dopo la perla 3 millimetri e andiamo a inserire 7 rocaille 11 sul lago ci inseriamo nella perla che sta in mezzo alle superduo ok tiriamo il filo ancora 7 7 e andiamo a infilarci nella 11 vede però dove sono uscito un altro lato del bracciale seguo seguo l'andamento del filo di bracciale adesso vado avanti nelle perle passo e di nuovo esco dalla 11 vedete 1 2 3 4 5 6 7 mi mi inserisco nella perla principale 1 2 3 4 5 6 7 e anche qua faccio la stessa cosa e faccio il giro per andare dall'altra parte del bracciale ok arrivata a sto punto qua non inserisco più 7 ma inserisco 6 4 5 6 e vado nella prima rocaille che ho inserito perla e se riesco e se riesco se non riesco facciamo dopo ecco eccomi qua vedete come si riesco questo specie di trucchetto 1 2 3 4 5 6 e ci inseriamo e sulla prima rocale vedete qua ci inseriamo nella rocale perla così via eccomi qua che carino e niente continuate così per tutto il giro io niente ho fatto vedere come si fa il tutorial e come si fa il bracciale la prossima volta che ci vediamo voglio farvi vedere come si fa questo questo orecchino piccino piccino carino che non è quanto la mia unghia quasi quasi quando la mia unica sono due centimetri per due cioè sgelando ma è bellissimo solo che voglio utilizzare una perla questa qua eccomi qua niente ragazze